ragazzi ricordatevi di mettere che siamo sbagliati domani è importante per i bimbi speciali come me buongiorno a tutti vi mando questo video che ho fatto con lorenzo è un video per sensibilizzare un po tutti quindi vi prego di farlo anche girare quindi sono il papà vi do io il permesso non preoccupatevi di farlo girare per la giornata di domani che serve come vi spiegherà lorenzo sensibilizzare su un tema su un tema che dovrebbe essere insomma di dominio pubblico sempre non solo in certi momenti dell'anno comunque lorenzo vi ricorderà di domani di mettervi due calzini spaiati si chi si dice proprio così si chiama proprio così questa giornata dove insomma si invitano tutti a mettersi due calzini diversi uno diverso dall'altro proprio perché per sensibilizzare sul fatto che anche le persone quelle che vengono comunemente chiamate diverse poi forse non stanno così male insieme agli altri e quindi insomma questa è una campagna proprio per sensibilizzare un po tutti so della bontà dei vostri cuori quindi auspico che sicuramente diffonderete e sarete i primi domani a indossare questi cosiddetti calzini spaiati quindi da parte mia e di lollo vi ringrazio anticipatamente buona giornata a tutti